Il dubbio, pensò a Casemiro, va a cercare Ronaldo, prova a girare! Rada, Rada, proprio lui, proprio lui! Cristiano Ronaldo fa impazzire il Bernabeu nel momento più difficile! Anche un po', parte il lancio, Müller per Lewandowski, cercano il dialogo, poi tocca lì dietro! E cade per l'autogol! E cade per l'autogol! Il Bayern Monaco passa in vantaggio su un autogol grottese, e invece c'è il secondo giallo, e quindi il rosso! Sembrava aver trovato il pallone, in protesta adesso Vibranti, Vidal trova il pallone! Assolutamente, ma poi è nettamente in anticipo sul portiere! Cross, Cristiano Ronaldo, attenzione, cerca spazio per il tiro, una prova, Neuer! Vola, attenzione, le finte, Asensio, controllo e tiro! Neuer! Un guizzo perché stava andando dall'altra parte! Sta partendo Carvacal, Ronaldo, controllo e tiro! Rata! Rata! Proprio lui! Ancora lui! Sempre lui! Rivediamo tutto, la posizione... Clamorosa lei! Fuori gioco, fuori gioco! Clamoroso! Penetra, deve triplare anche l'arbitro! Tutto solo Marcelo! L'appoggia ancora! Non adorate! Non adorate! Non adorate! La tripletta! Centro in Champions!